Cristiano, forse non è abito e se te non fai un cazzo la mattina e la sera, non è colpa nostra. Quanto cazzo sono pelato! Quanto cazzo siamo indaffarati, eh? Hai presente quel coglione di Cristiano Cicolari? Che è successo? Sta dormendo. È letto. Di merda, ho dormito due ore e mezza oggi. Domani, domenica 14 gennaio, alle ore 11 in punto sul canale di Sascha, ci sarà il video di calcio registrato sempre con Chiesa. Vedete via la sveglia e nulla. Mi raccomando, guardatelo, condividetelo, mettetevi piace e basta. Se qualcuno di voi fa il dottore, mi aiuti. Cosa devo fare per guarire? Auguri! Bacialo, dai! Sul canale di Sascha è uscito un video molto speciale. Andate a vederlo, può vedere con Chiesa. Buongiorno, siamo in viaggio, siamo andati a Ferrara. C'è una bomba atomica.